Salve ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vedremo come registrare lo schermo su Mac tramite l'apposita funzione del programma Wondershare Uniconverter, un potente strumento che consente di comprimere, convertire, editare e modificare i diversi aspetti di un video ma che offre anche delle funzionalità specifiche per l'acquisizione di materiale direttamente dal display di Windows e Mac, di modificarlo e marcarlo attraverso appositi strumenti come penne o forme geometriche. Ottimo quindi per registrare dei video tutorial o video lezioni. Prima di iniziare ricordatevi di lasciare un mi piace al video ed iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nostri prossimi contenuti. Cominciamo. Distrazione dello schermo. Dunque questa è la solita schermata iniziale del programma per chi ha visto già gli scorsi tutorial. All'interno di questa schermata abbiamo diversi strumenti. Oggi ci concentriamo appunto sull'opzione registratore. Possiamo selezionarla all'interno dell'interfaccia principale con un semplice clic. Di fianco possiamo chiudere la barra degli strumenti in modo da poter lavorare meglio. Nell'interfaccia della funzionalità registratore avremo a disposizione tre opzioni principali presenti sia qui sotto, nell'area più grande, sia in alto a sinistra. La prima icona è quella che consente di registrare lo schermo. La seconda è invece quella che consente di acquisire un filmato tramite la webcam. E poi la terza, quella che ci permette di registrare l'audio del nostro Mac o del nostro microfono. Andiamo a vedere ognuna per una queste funzionalità e quali sono le loro funzioni. Iniziamo con registrazione schermo. Clicchiamo su registrazione schermo per avviare questa interfaccia. Questi punti di controllo possono essere espansi e adattati alle nostre esigenze per andare a circoscrivere nell'area in cui vogliamo catturare la nostra schermata. Abbiamo a disposizione sia l'opzione personalizzata, che andremo a comandare noi attraverso i punti di controllo, sia diverse risoluzioni che variano in base al computer che stiamo utilizzando. Per esempio l'intero schermo o ancora il 2K, l'intero schermo ma in 1920x1080, quindi Full HD oppure l'HD. Abbiamo anche il formato quadrato. Qui abbiamo i valori che possiamo impostare per andare a mettere manualmente le opzioni relative alla nostra risoluzione e decidere di bloccare il rapporto di aspetto. In questo modo quando andiamo a muovere il contorno dei nostri punti di controllo l'area non si deformerà. Poi abbiamo le opzioni relative all'audio. Sotto questa icona possiamo decidere di andare a registrare l'audio che esce dagli speaker, utilizzare il microfono. Come vediamo una volta attivato si potrà visualizzare nella barra il volume del nostro microfono e poi le opzioni relative alla webcam. Infine abbiamo il tasto REC per cominciare a registrare la nostra acquisizione dello schermo. Inizierà un conto alla rovescia e qui abbiamo delle scorciatoie che ci serviranno per lavorare durante l'acquisizione dello schermo. Mentre stiamo acquisendo lo schermo possiamo andare a utilizzare alcuni strumenti come ad esempio questa matita che ci consente di tracciare dei segni attraverso gli strumenti presenti qua nella barra. All'interno della nostra acquisizione abbiamo un po' di tutto, il rettangolo, il cerchio, le linee per andare ad indicare all'interno di un tutorial alcune porzioni dello schermo, le frecce già composte, il testo e poi abbiamo anche l'opzione per cancellare oltre ovviamente l'evidenziatore e la matita. Possiamo scegliere di annullare le azioni che compiamo attraverso le freccette oppure ripristinarle. Troviamo poi l'opzione grande, medio, piccolo per andare a gestire il tratto e le opzioni relative ai colori attraverso la palette dei colori. Qui invece c'è il tasto che serve per andare a ridimensionare la nostra finestra e qua le scorciatoie per l'audio e il video acquisito dalla webcam. Per interrompere la registrazione momentanamente premiamo su pausa e play per farla ripartire, ricomincerà il conto alla rovescia, mentre per arrestarla premiamo su quadrato. I filmati verranno salvati all'interno della cartella predestinata. In ogni caso troveremo le nostre registrazioni schermo anche nell'interfaccia principale del programma in cui vedremo le caratteristiche del video, quindi il formato, la risoluzione, il peso e la durata e il nome della nostra clip. Passiamo adesso alla registrazione tramite webcam. Con questo tasto possiamo andare ad attivare la webcam del nostro pc e andare a scegliere quale webcam utilizzare, se quella integrata o quella esterna, il microfono, se quello integrato, quello esterno o addirittura quello che esce dal nostro computer o dal nostro Mac e poi scegliere la risoluzione di registrazione così come i fotogrammi per secondo. Premiamo poi su REC per iniziare la registrazione e poi su STOP per interromperla. Infine diamo un'occhiata alla registrazione dell'audio. Poi troviamo il registratore audio. Anche qui possiamo scegliere il formato mp3, mp4a e wav, scegliere il microfono da utilizzare per la registrazione, ad esempio quello del Mac e poi scegliere l'uscita audio. Una volta finito possiamo cliccare su REC per iniziare a registrare. Questo è l'audio che viene catturato dal nostro microfono. Anche nel caso dell'audio verrà salvato nell'interfaccia del registratore con tutte le sue caratteristiche. Al posto della risoluzione ci saranno i kilobit per secondo e possiamo scegliere di eliminare una di queste clip attraverso la crocetta in alto a destra che compare su ogni clip acquisita. Dal menu sottostante possiamo andare a decidere di cambiare la cartella di destinazione. Clicchiamo sull'opzione convertitore. Aggiungiamo un file. Possiamo aggiungere un secondo file oppure aggiungerli contemporaneamente nel momento in cui andiamo a selezionare i video dalla nostra cartella. Nell'interfaccia in attesa di fianco ad ogni video avremo le specifiche che ci andranno a spiegare il formato dei video, la risoluzione, la dimensione e il tempo. E questo vale anche per la stima di queste caratteristiche una volta terminata la conversione. Quindi quanto peserà più o meno il video dopo la conversione, quale sarà il formato, un piccolo recap insomma di tutte le impostazioni che avremo selezionato. Per convertire un video basterà premere su converti. Qua sotto vedremo il tempo restante per la conversione. Una volta terminato comparirà la scritta riuscito. Per visualizzare i file convertiti spostiamoci nella sezione finito dove potremo vedere i file che sono stati convertiti correttamente e rintracciarli attraverso il tasto sfoglia che andrà ad aprire la cartella dove sono stati salvati i nostri file. Cliccando invece sulla nuvoletta a fianco al tasto apri troveremo invece delle opzioni differenti come il compressore, il masterizzatore e il trasferimento ma ce ne occuperemo in un altro video. Possiamo selezionare il tasto cestino per eliminare l'elenco dei file. Il tasto impostazioni. Questo pulsante ma anche questo di fianco formato di output ci consente di accedere alle impostazioni avanzate dell'output selezionato che ci consentiranno di andare a modificare il codec video, le risoluzioni, i fotogrammi per secondo e tante altre impostazioni che approfondiremo in seguito. Qua sotto troviamo la sezione dedicata all'audio. Sarà possibile anche modificare il titolo del file convertito. Il pulsante sfoglia invece ci aiuterà a orientarci all'interno della cartella dei file convertiti dove troveremo i file che abbiamo convertito fino ad ora. Questo invece è il pulsante anteprima che ci consentirà di visualizzare il video prima della conversione. Il pulsante elimina quindi la crocetta in alto ad ogni riquadro relativo a un video ci consentirà di rimuovere dalla lista i video pronti alla conversione nel caso avessimo aggiunto dei file sbagliati. Sotto alla miniatura di ogni video troviamo alcuni pulsanti per andare a regolare la durata del video con un taglio, il ritaglio dell'inquadratura e gli effetti. Di fianco possiamo leggere tutte le caratteristiche del video prima e dopo la conversione e poi abbiamo due pulsanti molto interessanti. Uno per aggiungere i sottotitoli attraverso dei file e l'altro per andare a gestire le tracce audio aggiungendo per esempio dei brani musicali. Con il tasto I possiamo raggiungere la schermata dei metadati, tutte le proprietà che di solito si visualizzano nel momento in cui si va a cliccare con il tasto destro su uno di questi file video. Nella sezione inferiore dell'interfaccia ci sono i due menu a tendina che ci consentiranno di selezionare il formato di output della conversione, quindi questo è la posizione del file, quindi questo possiamo scegliere dove andare a salvare il file se nella stessa cartella in cui è presente originariamente oppure in una cartella specifica chiamata converted o altro, una cartella selezionata da noi. Ci sono poi due interruttori fondamentali per alcune funzionalità, l'unione di tutti i file, pensiamo a un corso in cui dobbiamo necessariamente unire tutti i nostri file in una singola lezione che è questa, oppure la conversione ad alta velocità in alto a destra, un'opzione che ci consentirà di convertire in modo più veloce alcuni formati, non tutti, alcuni formati di video supportati senza perdere la qualità. Vediamo brevemente l'iter per convertire un video. Per convertire un video quindi aggiungiamo un video attraverso uno dei due pulsanti o trasciniamo semplicemente il video all'interno di questa interfaccia. Attendiamo il caricamento, ora scegliamo il formato di output desiderato così come anche la risoluzione e premiamo sul tasto converti per convertire il singolo video, altrimenti in caso di più video nella nostra lista premiamo su iniziatutto. Una volta terminato troveremo all'interno della schermata finito il nostro video e potremo andare ad aprirlo cliccando sul pulsante sfoglia e poi sul file in questione per riprodurlo e vedere se è stato convertito correttamente. Bene, queste erano tutte le funzioni principali riguardanti la cattura e l'acquisizione dello schermo. Abbiamo visto le varie impostazioni per registrare i video del display e anche le funzionalità che ci consentono di modificare in tempo reale le nostre acquisizioni video tramite segni e marcatori di vario tipo. Spero che il video sia stato utile, in descrizione troverete il link per scaricare Wondershare Uniconverter. Ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarci. A presto!